Mi è venuta un'idea per un'intervista. Chi è? Richard Nixon. Ha diffamato la presidenza. Al popolo americano serve una condanna. Per quale motivo dovrei parlare con David Frost? Ho chiesto un'intervista. Non otterremo molto più denaro. Ah sì? Per il ciclo Cine Festival, il film Frost-Nixon, Il duello. Venerdì 16 aprile alle 21.10 su TV 2000.